Una vittoria per abbandonare quell'antipatico ultimo posto in classifica nel campionato di A1 di volley è questo l'obiettivo dell'esprivia Molfetta che nella quinta di ritorno della regular season affronterà al Palapoli l'Andreoli Latina che proprio con i biancorossi e con la CMC Ravenna condivide l'ultima posizione a quota 12. In casa Molfetta a suonare la carica è l'opposto Giulio Sabbi che ha parlato della condizione attuale dei suoi, tornando per un attimo alla sfida d'andata. Dopo queste cinque sconfitte, troppe per la verità, c'è la volontà di invertire la rotta. Cresce la fiducia in noi stessi, ha detto, e proveremo a riscattarci convinti di uscire da questo piccolo periodo di crisi di risultati. La sfida a Latina, ha aggiunto Sabbi, sarà anche l'occasione per rifarsi della sconfitta della gara d'andata dove di certo giocamo al di sotto delle nostre possibilità. E c'è voglia di riscatto anche in casa Latina, più decisa che mai a far punti anche fuori casa. La squadra, guidata da Simoni, subentrato in panchina a Santilli due settimane fa, cerca il primo successo esterno della stagione, dopo aver conquistato due punti rispettivamente contro Trento e Ravenna. In campo quasi certamente anche Matteo Paris, l'ex di turno, che ha parlato di gara fondamentale per il prosieguo della stagione. Veniamo da due vittorie consecutive, abbiamo ripreso fiducia in noi stessi, ha detto, sarà uno step importante per cercare di risalire la classifica e soprattutto per lasciare l'ultimo posto che non meritiamo. Non sarà facile giocare al palapoli, questo lo sappiamo, ma siamo convinti del nostro potenziale. Arbitri del match, esprive a Molfetta, Andreoli Latina, saranno Gianni Bartolini di Firenze e Roberto Boris di Pavia.